partecipa al roma music festival 2021 nella categoria interpreti francesco baldini che viene da ronciglione provincia di viterbo allora francesco è scelto un brano portato al successo dalle vibrazioni la canzone è dedicato a te perché questa scelta ma perché innanzitutto vorrei dedicare questa canzone alle persone più care più vicino a me che chi mi vuole bene che mi stima e oltretutto appunto a questa ragazza a cui il cantante sta a cuore insomma e quindi insomma è una delle dediche più belle mai fatte sinceramente in effetti leggendo anche il testo ascoltando il brano dedicato a te una bellissima canzone d'amore e quindi con questo brano francesco baldini partecipa al roma music festival partecipa al roma music festival partecipa al roma music festival Grazie. 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 Grazie.